Benvenuti a questo nuovo incontro con l'autore. Oggi sono con Antonio Costa Barbee, che ringrazio di aver accettato il mio invito, personaggio del quale non credo di dover dire molto, se non che per me è stato un incontro sorprendente. Ci siamo conosciuti grazie a Facebook in realtà perché avevamo sentito parlare vicendevolmente l'una dell'altra e questa frequentazione ha portato alla base di un'amicizia che oggi si sviluppa in questo incontro. Antonio è qui con me perché lui è un vulcano di esperienze e di idee e quindi presenta in anteprima oserei dire quello che sarà il suo volume che verrà poi presentato ufficialmente, lui quando Facebook la conquista di cui si vede la copertina. Una delle tre. Una delle tre. Lo dico subito perché questo libro nasce proprio dalla mia esperienza settennale su Facebook e grazie anche al coraggio dell'editore dell'edizione a stragalo di Alessandra Perotti che ha voluto propormi questo lavoro è stato proprio un po' con l'idea di evitare i soliti libri che già sono stati pubblicati, come usare Facebook, i pericoli di Facebook o di internet in generale e di dare una sorta di messaggio un po' più positivo. Infatti la conquista non è una nel senso di dire che abbiamo vinto qualche cosa ma abbiamo un pochino padroneggiato, ci siamo fatti amici un po' questo social network. Da sette anni grazie ad alcuni amici musicisti con i quali avevo suonato a Londra nel 2007 assieme anche ai ben noti Procolaro, uno dei miei gruppi preferiti, ecco allora qualcuno mi aveva segnalato l'esistenza di The Facebook, allora eravamo ancora agli inizi. Io ero un po' dubbioso francamente, c'erano già altri mezzi di comunicazione, un'altra bacheca, una cosa mi sembrava un po'. E poi invece piano piano dopo essermi iscritto e anche con un episodio molto particolare perché tra le prime amicizie, da noi il termine è stato tradotto amicizie, c'è stata proprio una ragazza di allora 17-18 anni, figlia di una mia amica, un compagno di scuola, ho ricostruito tutto dopo, che mi aveva ricercato su questo social network perché aveva di me uno dei miei librettini di poesie regalati in allora alla propria mamma, le città in bottiglia. E quindi io ho scritto poco nella mia vita, in realtà articoli, racconti, libri di poesie. Questo è forse il primo libro che nasce da questa esperienza sul wall, sul muro, della mia pagina che va avanti da circa sette anni. Da prima timidamente e poi via via con quelle innovazioni, quelle creatività che mi vengono riconosciute perché mi dicono appunto che insomma è un modo piuttosto piacevole, interessante di avvicinarsi a Fesum e di utilizzarlo. Io spero naturalmente che tutto quello che ho fatto finora e quello che farò in futuro sia sempre in questa linea, in questo arco di tracciato. in fondo le mie passioni che sono quelle musicali, legali, che poi è la mia professione, pochino giornalistiche e poetiche, se vogliamo usare questo aggettivo, sono state un po' tutte trasfuse piano piano nella pagina. E poi c'è una particolarità che ha destato interesse, quella delle domande. Domande che ecco... Le domande bizzozzere di cui io sono utente. Ma è certo perché il discorso era un po' questo, cioè bizzozzero nasce da un aggettivo, un incrocio tra bizzarro e qualche altra cosa, insomma un po' come il test delle macchie di Rorschach. Una domanda estremamente aperta in cui uno può vedere un po' quello che vuole e rispondere di conseguenza. E questa è un po' la domanda del pomeriggio. Talvolta invece al mattino si parla... non è un vero e proprio blog, perché io non riuscirei comunque a seguire come un blogger la pagina. Però ho una domanda che può essere un po' socratica, no? Nell'arte della cosiddetta maieutica, quella di far riflettere, di far rispondere, a volte con la battuta, a volte con una risposta un pochino più serie, tutti coloro che intendono appunto seguirmi, che sono tanti affezionati al momento. Assolutamente, io faccio parte di questo gruppo. Grazie, è un onore. No, per me, io aspetto sempre che appaia qualcosa sul tuo wall, perché che siano le domande piuttosto che i tuoi saluti, per me sono degli appuntamenti ormai rinunciabili e confesso anche che avendo avuto l'opportunità di leggere in anteprima quella che è la tua pubblicazione sono andata a cercare, tutti coloro che con me hanno risposto, sono andata a verificare, è molto bello questo aspetto. Sì, in effetti è un libro scritto, posso dirlo, a più mani, la parte che mi sono riservata in questo caso è quella più di agglomeratore, di sistematore, poi c'è stata un'opera infaticabile di Alda Invernizzi che è proprio la editor principale, ma prima ancora l'opera di amici come Valentina Pavese, come Chiara Tordi, che hanno proprio, mi hanno aiutato a estrapolare da sette anni di pagine, di fa, è un lavoro abbastanza notevole, le cose che potevano essere comunque condensate in un libro. Per ora un libro cartaceo, un domani forse un e-book e riagganciandomi alla copertina c'è stata questa idea, non è commerciale nel senso vero e proprio del termine, magari un filo forse può anche essere, ma l'idea era quella di presentare il libro con alcune pagine inedite e con tre copertine splendidamente create, a me piacciono molto, ma vedo che anche a chi ha avuto modo di vederle, insomma, hanno dato la stessa sensazione, da Mario Finotti per le foto e da Bruno Testa per l'elaborazione e per il mood del momento. Se cioè una persona si sente magari in un certo feeling, può prendere quella in cui c'è il pifferaio magico, poi c'è quella del domatore, in realtà, adesso qui vediamo quella del pifferaio, il domatore però non ha una frusta, ma ha un microfono con un lungo filo, perché oggi si usano i radiomicrofoni, ma quando ho iniziato io a cantare per diletto e per beneficenza in genere spettacoli che oramai vanno avanti da tantissimi anni, c'erano ancora i microfoni esclusivamente col filo. La terza è quella che ho scelto io, un personaggio oggi un po' dimenticato, i fumetti hanno ripreso tantissimi personaggi, da Batman all'Uomo Ragno a Superman, e Mandrake, il mago invece è stato un po' negletto, eppure negli anni 30, 40 e 50 aveva avuto un buon successo di pubblico. Io l'ho ripescato in una copertina, sperando appunto che un po' di magia venga anche trasfusa nel libro. Ti confesso che questa è un'altra cosa che abbiamo in comune, perché Mandrake era uno dei personaggi preferiti dal mio papà, e quindi per me è una conoscenza frequentata a lungo, quando di nascosto rubavo dalle sue collezioni fumetti, quindi è un'altra cosa che in qualche modo ci lega. Il libro tra l'altro è strutturato in maniera molto agile, perché ovviamente tu hai ripetuto quelle che sono le dinamiche che normalmente utilizzi su Facebook all'interno dello stesso, per cui si trovano oltre alle domande bizzozzere anche gli altri spazi. Sì, per esempio al mattino c'è il buongiorno delle 6 e 30, poi ci sono le battute lette sul muro, talvolta sono davvero, una volta me l'han chiesto, ma non vera quanti muri ha? Beh, qualche volta le ho lette davvero sul muro, qualche volta fanno parte della mia creatività, ma soprattutto io cerco di alzare le antenne e di captare, per esempio da un post del giorno prima, io magari lo registro e lo ritrasformo per una domanda o un post successivo, dando però sempre a Cesare quel che è di Cesare, cioè in genere c'è sempre l'ispirazione proviene da, e quindi questo crea un buon rapporto anche con le altre persone che in qualche modo contribuiscono alla mia pagina. Inoltre, se posso dirlo, forse ai primi tempi qualche flames, qualche lite verbale sulla mia pagina c'è stata, ci sono in moltissime pagine, anzi a volte, qualche volta vengono aizzate un po' di proposito. Io ho cercato invece di eliminarle, di contenerle, e devo dire che in questo tutti i miei contatti e amici, quelli più, chi meno, ma insomma, voglio dire, hanno preso questo stile e hanno comunque cercato, anche nelle domande magari un pochino più, non dico delicate, ma insomma un pochino più riflessive, hanno mantenuto uno stile sobrio e attento. E questo fa sì che io da 4 anni non cancelli neanche più un post. E questo è un piccolo record, credo. Sì, è decisamente un successo. Perché si può eventualmente rispondere e dialogare anche senza fiammeggiare. Infatti, credo sia proprio uno dei lati più positivi, oltre a quelli che abbiamo già citato, di questa tua relazione, di questo tuo rapporto con gli utenti, con gli amici, anzi usiamo questo termine. Prima hai detto che è un po' l'arte maieutica quella che ti ha sostenuto in questa attività, ed è proprio vero, hai anche aggiunto, mi sono ritagliato il ruolo di colui che ha raccolto, ma bisogna essere molto bravi per fare questo, quindi è un merito che io ti riconosco, perché è più facile essere tutto così concentrato su se stesso, piuttosto che non lasciare spazio agli altri, quindi davvero grazie, perché questo è un libro corale, ma con un grande regista, quindi assolutamente. Vi ringrazio, spero proprio che sia un po' questo l'effetto, proprio perché comunque la famosa parola condivisione, che tanto va su fe, condividere, condividere, ecco, se può essere messa in luce e mantenuta è una buonissima cosa. Tra l'altro, per arrivare poi alla scansione della giornata, verso il pomeriggio ci sono magari anche i pensierini della sera, talvolta sono presi da canzoni, talvolta da poesie, talvolta sono degli aforismi che magari sono anche misti. Io mi sono permesso un paio di volte di prendere delle frasi di una canzone, per esempio, di Mogol Battista e Anzioni di Mogol e dopo 40 anni, magari, emozioni, capire tu non puoi, tu chiamale se vuoi emozioni, è diventata capire adesso puoi e chiamale se vuoi emozioni. Ho scritto Mogol più ACB, non so se Mogol mi abbia mai perdonato. Io credo di sì, anzi, ne sono convinta. A questo punto non ci resta che dare appuntamento alla prima presentazione ufficiale. Il libro, ecco, la presentazione è il venerdì 4 dicembre qui a Novara, alla libreria Lazzarelli e il libro è già comunque in prevendita sul sito delle edizioni Astragalo, quindi www.astragaloedizioni.com, comunque con Google si trovano facilmente. La collana è quella comunica. La prefazione, due brevissime prefazioni sono state fatte, una dalla senatrice Elena Ferrara, che è la prima firmataria del disegno di legge contro il cyberbullismo e l'altra dalla mia carissima amica e bravissima giornalista Serena Fiocchi. Quindi l'appuntamento è alle 17 alla libreria Lazzarelli il 4 di dicembre. Noi ci saremo sicuramente, intanto grazie di essere stato con noi e buon giro di presentazioni e continua soprattutto a fare quello che fai. Grazie, grazie molto di nuovo. Grazie a tutti.